Ben trovati con lo spazio a cura di Meteo Calabria.net, un centro di bassa pressione continua ad interessare la nostra regione apportando condizioni di variabilità, atteso invece maltempo più deciso nel corso della giornata di domenica. Sabato 9, in genere parzialmente nuvoloso o nuvoloso con la media probabilità di qualche fenomeno che nel corso della giornata potrebbe bagnare a macchia di leopardo l'aria del Pollino e la Calabria centro-meridionale. Dalla sera-notte isolate piogge attese sul medio-alto Ionio, venti da nord o nord-est sull'alta Calabria, di direzione variabile sulla bassa Calabria, mari poco mossi, mosso solo il basso Tirreno e l'alto Ionio, ma con motondosi in accentuazione sullo Ionio dal pomeriggio. Temperature invariate nelle medie del periodo. Attese altre precipitazioni per domenica 10 ottobre, con tendenza al peggioramento dalla tarda mattinata, causa di rovesce temporali, specie sulle Tirreniche. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.